Do subito il benvenuto al dottor Mario Neroni, igienista dentale. Buongiorno, benvenuto dottor Neroni, perché oggi dobbiamo parlare della salute dei nostri denti. Quanto è importante pulirli bene? Perché la pulizia, i nostri denti raccontano molto di noi. C'è un rapporto anche molto stretto tra l'igiene dentale e la salute, il nostro benessere. Che rapporto c'è? È importantissimo anche perché soprattutto si prevengono tantissimi disturbi dai più lievi, come la litosi, ai più moderati o ai più gravi, come infiammazioni e patologie cariose. La patologia cariose può portare poi alla perdita dell'elemento dentale e di conseguenza a un benessere della salute generale molto inferiore, perché comunque si stimano dei fattori antinfiammatori che potrebbero poi essere e dare il là per patologie sistemiche più gravi. E questo è importante. Oltretutto, diciamo che degli studi in merito hanno dimostrato che i pazienti over 60 con un'identulia parziale, quindi con degli elementi dentali in meno, hanno una qualità della vita in termini di tempo minore rispetto a pazienti che li hanno rimpiazzati o che li hanno curati. Devono essere puliti sia dal punto di vista professionale, poi parleremo esattamente ogni quanto deve essere fatta questa pulizia professionale, ma anche pulirli bene, perché non li sappiamo pulire, piccini, grande, nessuno li sa pulire. E allora iniziamo subito oggi, vi daremo proprio, anzi ci darà il dottor Neroni anche a noi, quali sono anche gli strumenti che noi dobbiamo inserire nella nostra beauty, che non è soltanto beauty routine dentali. Allora innanzitutto che cosa ci consiglia di fare? Le regole base sono quelle di lavare i denti due o tre volte al giorno, almeno le più importanti sono mattina e sera perché si esce e si entra nel ciclo notturno dove cambiano alcuni parametri come la circolazione e la difesa dell'organismo. Utilizzare gli strumenti adatti, perché i pazienti sostanzialmente ormai si dividono in due categorie che sono il paziente gengivale e il paziente parodontale. Il paziente gengivale può utilizzare tranquillamente spazzolino e filo, il paziente parodontale ha bisogno di altri presidi uguali scovolini e certo anche il filo, spazzolino elettrico ormai si predilige e si consiglia quasi a tutti i pazienti, perché ha degli strumenti come il timer e come il sensore di pressione che ci aiutano e faciliano sicuramente la rimozione della placca, perché poi è tutto lì il gioco. Il discorso è più la placca si rimuove e più si ha possibilità di stare in salute. E allora partiamo proprio dagli spazzolini, lì vediamo scritto preferire lo spazzolino elettrico, anche chi non ha possibilità, anche quello manuale per carità. Quali sono le caratteristiche, come lo dobbiamo scegliere? Morbido, medio, forte, perché insomma c'è un mondo. Il mercato diciamo che è abbastanza saturo in materia, allora tendenzialmente si considera, noi diciamo nell'ambito che squadra che vince non si cambia, cioè se il paziente ha una buonissima e generale con quello che utilizza abitualmente, quindi lo spazzolino manuale e a volte il filo non gli si cambiano le abitudini, si correggono e basta. Lo spazzolino elettrico e lo spazzolino sonico, che è un altro ottimo strumento, vanno adesso per la maggiore perché appunto si trovano a qualsiasi fascia di prezzo, quindi sono accessibili un pochino a tutti e soprattutto lo spazzolino elettrico ha il timer, quindi abituale al paziente a spazzolare per almeno due minuti e il sensore di pressione e poi diciamo i più all'avanguardia hanno anche... Ma uno deve stare fermo? Come si usa? Lo spazzolino elettrico si utilizza molto, è un po' monotono, bisogna tenerlo fermo sullo spazzolino sul dente tra i 4 e i 5 secondi per ogni elemento. Si può in qualche modo agevolare la rota oscillazione che ha il meccanismo dello spazio elettrico ma tendenzialmente si deve tenere fermo sul dente. Allora parliamo anche degli altri strumenti, ha diviso i due pazienti, i gengivali e i parodontali che sono le due caratteristiche di tutti i pazienti e ci sono anche gli altri strumenti, dunque il filo interdentale, le flossette e gli scovolini. Ci fa una disamina? Allora diciamo che gli strumenti di elezione sono spazzolino, filo e scovolino. Il filo interdentale poi è stato aiutato dalle flossette tendifilo per diciamo colmare quel gap di pazienti che hanno un po' di limitazioni funzionali o che non hanno una buonissima manualità quindi utilizzano il flossette come aiuto. Gli scovolini invece vengono prediletti dai pazienti parodontali, cioè i pazienti che si pensa o si sa che abbiano degli spazi maggiori dove si è più accumulo di placche e quindi il filo interdentale non è necessario, lo sostituisce completamente lo scovolino di varie dimensioni ovviamente e poi l'igienista dentale che segue il paziente parodontale gli saprà indicare. Qual è? Ovviamente anche i prodotti migliori perché dico insomma in commercio ce ne sono. Sì, bisogna saper scegliere. Crea anche tanta confusione tutta questa scelta. Parliamo anche di igiene alimentare, non solo igiene dentale perché ci possono essere, ci sono degli alimenti che non vanno d'accordo con i nostri identi e se sì quali sono? Allora, principalmente sono tutti gli zuccheri che poi sono contenuti un po' in tanti alimenti come anche la pasta, il pane. Ovvio che tanti alimenti non si possono eliminare solamente per un discorso di zuccheri e di apporto che hanno nel cavo orale, però vanno sicuramente limitati e va associata sempre a una corretta igiene orale e soprattutto consapevolezza di come farla ovviamente. E gli zuccheri se permangono troppo in bocca purtroppo danno problemi di carie, tutto quello già sappiamo, soprattutto per i bambini. Parliamo di diabete, diabete e parodontite anche. Li dobbiamo curare di più i denti? Allora, è stato comunque dimostrato e studiato che il diabete e la parodontite sono due malattie non trasmissibili che hanno un rapporto bidirezionale. Nel senso, il paziente diabetico ha 2-3 possibilità in più di sviluppare malattia parodontale e il paziente parodontale ha possibilità di sviluppare il diabete. Con dei meccanismi, semplificando molto il processo, diciamo che il paziente parodontale ha uno stato infiammatorio tale che libera nell'organismo comunque degli agenti antinfiammatori che possono, diciamo, ridurre l'assunzione da parte dell'organismo e soprattutto di insulina, scusatemi, di conseguenza l'iperglicemia può portare a problemi diabetici. E qui a maggior ragione entra in gioco appunto l'igienista dentale. Bisogna fare l'igiene professionale. Ogni quanto e come va fatta? Come deve essere fatta l'igiene dentale? Allora, l'igiene orale va ovviamente, come dicevamo prima, va fatta a seconda del paziente che si è davanti, quindi si ha una cadenza, un follow up di 6 mesi per il paziente gengivale e follow up di 3-4 mesi per i pazienti parodontali e i pazienti implantali, per i pazienti che hanno sostituito con gli elementi con implantologia. Va fatta ovviamente con tutti gli strumenti professionali, come gli ultrasuoni, quindi manipoli ultrasuonici o piezoelettrici, strumenti manuali da associare. Adesso si utilizzano anche molto le polveri ad alta pressione perché si è comunque notato che l'impatto deve essere minimo e preciso e comunque in una seduta professionale poi la cosa importante oltre alla rimozione di placca e quindi la restituzione di integrum e la restituzione della biologia al paziente del cavo orale lo si deve comunque istruire perché quello è il lavoro più importante sostanzialmente. E quanto deve durare in media una pulizia ben fatta? Il timing di strumentazione non deve andare sotto i 25-30 minuti, tra anamnesi, chiacchiere e quant'altro una seduta non deve durare meno di 45 minuti. Questo è importante, non fidatevi di chi vi dice che dura solamente 10-15 minuti non è dolorosa, un po' fastidiosa, ma non è assolutamente dolorosa. Può essere fastidiosa ma dipende anche dallo stato di infiammazione, certo. Grazie, grazie a dottor Mario Neroni, grazie di cuore.